Svelare tutti i miei segreti? Mai! Un sorriso e un bel cappello? Non ti basta solo quello! E con Triscroft che trovi i look più belli e nuovi! Ti senti più attraente, in forma smagliante! E con Triscroft che trovi i look più belli e nuovi! Da Flytex, dove nuove e meravigliose idee prendono forma!